ciao ciao a tutti io mi chiamo salvi la basletta dell'asino inappetente inappetente vuol dire chi non aveva fame fame era un asino che non mangiava due amici si scondrano uno dice all'altro sai il mio asino non mangia più non so proprio come fare ti do un consiglio portalo in parlamento sicuramente vedendo tante persone che mangiano gli verrà appetito va bene farò così dopo qualche giorno i due amici si rincontrano di nuovo l'altro è sempre più disperato cosa è successo io sono andato in parlamento come mi avevi detto ma mi hanno mangiato l'asino e sono rimasto senza asino aiuto vi è piaciuta arrivederci ai prossimi video vi aspetto ciao ciao vi raccomando non perdetevi salvi e gino sono qui per raccontarvi tantissime storie